Via Monti di Resina, strada alle pendici del Vesuvio, contesa fra Torre del Greco e del Colano, e di nuovo, come sempre, una discarica a cielo aperto. Basta guardare i bordi della gareggiata per rendersi conto dell'abbandono. I rifiuti si accumulano giorno dopo giorno tra erbacce incolte. Alzando lo sguardo a quello che dovrebbe essere già il verde del nostro vulcano, l'immagine è quella di una vera e propria discarica, con tanto i rifiuti ingombranti e pericolosi. È evidente la presenza di amianto e di altri materiali tossici. Ogni sistema per contrastare il fenomeno, come fototrappole o semplicemente fari che possano rendere visibile la zona, non viene sperito all'amministrazione comunale. Una strada percorsa tutti i giorni da residenti e da bambini che vanno a scuola, come conferma l'attivista Ciretta Vitello in un video di denuncia. Ormai sono anni che lotto per questa strada, una strada percorsa da tanti bambini e ragazzi che vanno alle scuole elementari e medie. È uno schifo, è un degrado. Cioè quanto costa una fototrappola? Quanto costa un palo della luce e beccare questi incivili bastardi?